Grande successo tecnico e organizzativo per la sesta Fight Night Valdarno, il meeting di Thai Box di altissimo livello organizzato al palazzetto del Matassino di Figline sabato scorso dal collaudato tandem Dimitri Monini-Fabio Iaunese. A corollario di una serata che ha strappato applausi a scena aperta al folto pubblico presente, la conquista del titolo mondiale ISCA Oriental Rules da parte di Mustafa Aida, il marocchino ormai valdarnese d'adozione, esponente del Fight and Fitness Academy. Ha superato ai punti strappandogli il titolo il francese Edouard Bernadou. Onore a Edouard Bernadou che è un campione vero e lo ha dimostrato qua sul ring, un campione capace di colpi forti e di incassare colpi altrettanto forti, però questa volta la differenza l'ha fatta la capacità di Aida che non ha mollato fino alla fine. Aver vinto questo titolo contro un super campione il valore ne cresce enormemente perché comunque ho vinto il titolo ma non l'ho vinto facile, ho affrontato un atleta molto molto forte che comunque sapevo che era un atleta forte ma non così tanto, che comunque mi ha messo in difficoltà e mi ha preso con un colpo inaspettato all'inizio del match che purtroppo un po' mi ha scombinato il match. Però per fortuna con la mente solida sono riuscito a fare il match piano piano in salita riuscendo a portarmelo a casa. Mustafalo conoscono tutti a livello internazionale, qui a Figlino ovviamente è l'idolo di casa. Il match è stato molto equilibrato, il francese è partito subito forte però Mustafalo ci ha creduto fino in fondo e ha recuperato fino ad arrivare alla fine e gli ha strappato la cintura quindi ha vinto lui. Un evento che sarà ricordato a lungo anche perché di rado in ambito italiano si mettono insieme incontri maschili e femminili di così alto profilo.